Scopri la bellezza senza tempo della città di Padula, situata ai piedi del Monte Cervati, nel cuore della meravigliosa regione della Campania. Esplora il convento di San Francesco e immergiti nella storia e nella spiritualità di questo luogo antico e sacro. Cammina sulle orme dei pellegrini di Santiago de Compostela, ammirando i dipinti che adornano l'eremo di San Michele alle grottelle. Scopri il Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte, l'unico al mondo costruito sopra una, sorgente d'acqua, un simbolo della spiritualità che da secoli permea la vita di questa città, ma non è solo la spiritualità che rende Padula un luogo speciale. Qui troverai anche tanti luoghi di interesse storico-culturale, tutti da scoprire e da apprezzare, e quando cala la notte, la Certosa di San Lorenzo si illumina, regalando uno spettacolo di luce e di magia che ti lascerà senza parole. La Casa Museo Gio Petrosino, ad esempio, ti farà conoscere la storia del poliziotto italo-americano che sconfisse la mafia. Vieni a scoprire Padula, ti aspettiamo a braccia aperta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!